Si erano specializzati nel traffico di auto rubate le tre persone indagate dalla questura di Pescara in Manette, un 56enne originario della Sicilia ma residente in provincia di Pescara. In casa dell'uomo sono stati sequestrati uno scanner per la captazione delle frequenze delle forze dell'ordine, numerose centraline elettroniche verosimilmente utilizzate per rubare autovetture, un apparecchio disturbatore di radiofrequenze usato per inibire i sistemi di allarme per impedire le comunicazioni telefoniche oltre a targhe di autovetture e altro materiale di interesse investigativo. Sempre in casa dell'uomo in provincia di Pescara la polizia ha recuperato una pistola calibro 38 ed una scatola con 43 cartucce. Le auto che venivano rubate venivano poi trasferite in Puglia per essere vendute anche all'estero o smontate per venderne i pezzi. Le indagini della polizia di Pescara proseguono. Diciamo che questo è un passo intermedio di un'inchiesta che è iniziata da prima e che terminerà più avanti. È comunque un passo importante perché ci ha permesso di ritrovare del materiale di assoluto interesse che restituisce l'idea di un'organizzazione strutturata, ben corroborata, ben collaudata, che era dedita in via professionale a questo tipo di reato. Le indagini partono da un controllo della volante che ferma questo individuo che oggi abbiamo arrestato in compagnia di altre persone e vengono trovati in possesso di una centralina elettronica. Un mezzo, uno strumento, viene spesso utilizzato dai ladri di auto appunto per asportare le autovetture. Quante sono le macchine rubate o comunque i mezzi interessati da quest'operazione? Adesso noi dovremmo fare una ricostruzione a ritroso sugli elementi trovati, però possiamo sicuramente parlare di decine di autovetture che ogni mese partivano alla volta della Puglia in particolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.